Il casale della Cervelletta è accessibile sia da Collianiene sia da Torcervara. La torre e il casale della Cervelletta sorgono su una rupe tufacia che si eleva di circa 8-10 metri sull'area sottostante. Le prime fonti storiche che parlano del casale risalgono all'epoca romana per la presenza di una villa rustica. La torre del casale è medievale XIII secolo e nel corso del tempo, intorno ad essa, si costruisce un complesso edilizio di tipo ecclesiastico. Nel XVI secolo il complesso è di proprietà di alcune famiglie nobiliari e nel 1628 viene acquistato da Scipione Borghese ed assume la struttura fortificata che possiamo vedere ancora oggi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la tenuta viene venduta dai salviati a due società finanziarie e negli anni Ottanta cominciano le battaglie dei cittadini per la salvaguardia del casale e del borgo. Una legge regionale promossa per iniziativa popolare stabilisce l'istituzione del Parco della Cervelletta e nel 1997, con un'altra legge regionale, il Parco viene inserito nella riserva naturale di Valle Aniene. Una legge del 2001 stabilisce l'acquisizione del casale da parte del Comune di Roma. Negli anni successivi la struttura ha attraversato una fase di degrado ma le recenti attenzioni da parte della cittadinanza fanno sperare a un'opera di riqualificazione come centro culturale e soprattutto cinematografico. Qui state vedendo le mie foto che ho fatto alla tenuta Valle Aniene del casale La Torre della Cervelletta. Nella prima parte del filmato io ho inserito le foto con l'accesso da Coglianiene e poi subito dopo ho messo, che sono quindi la gran parte, le foto che ho fatto accedendo invece proprio da via di Tor Cervara dove c'è l'accesso principale con altri casali che stanno poi poco prima del casale principale della Cervelletta. Comunque diciamo questa cosa attrattiva per quartiere di cui si parla tanto di riqualificare questo casale dal punto di vista culturale di fare diciamo un centro, un polo anche cinematografico poi si vedono anche in queste mie foto oltre al casale una parte diciamo altri edifici che sono delle stalle proprio vicino al casale stesso qui si vede la torre del casale di Cervelletta e anche un centro di agricoltura anche biologica questa zona ed è sicuramente un'occasione per quartiere per poter fare diciamo una gita, un'escursione diciamo al casale per vedere magari cose che forse non tutti conoscono bene e che hanno una storia nell'ambito del quartiere stesso. arrivederci, ciao ciao